Ed, c'è qualche problema? Guarda un po' chi ha deciso di unirsi a noi C'è un po' di fare così? Sparite immediatamente! Via da casa mia, insotti! Ed! Ascoltami, testone! Non puoi buttarmi fuori! Anche io ci vivo! Sparisci! Ok, ok, è meglio che ce ne andiamo Ehi, Ed, vi ho proprio fulminato! È una mia impressione, il suo vocabolario sta peggiorando Li stavo imbrogliando alla grande con quella lotta, ma poi è arrivato il guastafesta e ha rovinato tutto! Ehi, prontalo! Sei sceso dal letto col piede sbagliato e i calzini puzzolenti? Musone appeso! Ed, possiamo fare qualcosa per farti sentire meglio? Ehi, doppia D! È il nostro amico tonto sul tronco? Adesso basta! Io no, fin sopra i capelli di questo tuo malumore! Avanti, sorridi! Prova a sorridere! Passaci sopra! Sii felice! L'apocalisse! Non! Doppiati, svegliati! Bravo, tavoletto! Io voglio stare da suolo! Tavoletta! Ridammi tavoletta, cattivo! Ci provo, amico, ma non riesco a raggiungerti! Che cosa vuoi che faccia? E' una cosa un po' strana, ma se è per te lo farò! Questo dovrebbe funzionare! Ierodimo! Ed è tornato finalmente a sorridere! Tavoletta! Non ci si annoia mai con questi pagliacci, vero? Un sassolino? Il malumore di Ed era causato da un sassolino nella scarpa!